Obiettivo minimo bissare il successo dello scorso anno con la seconda edizione di Mediterranea Milano, una formula business della fiera agroalimentare più longeva d'Abruzzo. Quest'anno l'iniziativa si avvale anche della collaborazione della Camera di Commercio dell'Aquila e dell'assessorato al turismo della regione Abruzzo con il quale si è avviato un protocollo di collaborazione per la promozione del territorio. Dal 28 settembre al 15 ottobre dunque si avrà la possibilità di conoscere l'Abruzzo sotto il profilo turistico e tramite le sue produzioni agroalimentari d'eccellenza nel capoluogo Meneghino. Sarà organizzato un temporary store nel vicolo dei Lavandai in zona Navigli e poi la vetrina di promozione turistica nella Camera dei Notari in Piazza Mercanti e ancora il 4 di ottobre un evento con incontri con operatori retail della ristorazione Lombarda, la presentazione delle eccellenze d'Abruzzo ed un cocktail e a seguire una cena in piedi a base di prodotti abruzzesi. Milano è una nuova sfida che abbiamo accettato noi come Camera di Commercio insieme alla Regione del Turismo e alla Camera di Commercio dell'Aquila. Noi mediterranea qui sul territorio è un'edizione ormai che va benissimo e di successo per cui abbiamo accettato questa sfida di Milano che è un parterre più importante. Tutti insieme, così che il Camera di Commercio, così che le associazioni, le sede sindacali, Confindustria, insomma tutti coloro, le DMC, le PMC, insomma tutti coloro che partecipano allo sviluppo del turismo della nostra Regione sanno quanto importante sia fare sistema. Fare sistema porta ricchezza non solo al turismo ma a tutti coloro che vivono in questa nostra Regione. Se una Regione è ricca di turismo è ricca sotto ogni punto di vista. per questo noi stiamo lavorando, lo stiamo facendo in maniera forte perché il sentimento che ci lega è l'amore per la nostra Regione.